Ciao, io sono Lorenzo e mi occupo di... no, niente, ricominciamo subito. Conto è la soluzione di gestione finanziaria che dà la carica a start-up, liberi professionisti e piccole e medie imprese. Come lo facciamo? Con un servizio che risponde alle necessità degli imprenditori, un servizio clienti ultra-reattivo e un pricing trasparente. Io sono Lorenzo e in Conto mi occupo di costruire e mantenere relazioni con l'ecosistema innovazione italiano, incubatori, acceleratori, start-up. Ecco perché siamo felici di essere qua a Pari per iNetwork, un evento che dà la carica alle imprese, alle start-up che fanno innovazione al sud e siamo quindi felici di supportarlo perché ci permetterà di entrare in connessione e conoscere da vicino chi fa innovazione e impresa nel sud Italia. Ah, stavi già registrando? Ah!